Di scena, questa mattina, sul palcoscenico del Teatro Savoia di Campobasso, un convegno con al centro le conclusioni di un lavoro progettuale condotto con gli studenti di alcuni istituti scolastici sul tema preciso della prevenzione dei fenomeni di bullismo e l'emarginazione sociale, studiando ed analizzando le dinamiche all'interno di una classe. Il progetto ha avuto un percorso temporale ed è stato curato negli interventi attivi di incontro con gli studenti da due psicologhe e psicoterapeute, le dottoresse Giulia Leonelli e Alessandra Passarella. La direzione primaria del percorso è stata quella della conoscenza delle persone, entrando nella sintonia di una vicinanza necessaria ma fondamentale a condividere i passi delle loro esistenze, tenendo in grande considerazione i pensieri, le storie personali, i rapporti interpersonali, le dimensioni culturali e anche e soprattutto la partecipazione ai percorsi sociali. A commentare i risultati in platea e nei palchi di galleria, oltre i ragazzi e i loro insegnanti, il sindaco Battista, i rappresentanti istituzionali del comune di Campobasso, dell'ASREM, dell'Università degli Studi del Molise, i dirigenti scolastici degli istituti impegnati nel progetto, i referenti dell'Osservatorio Nazionale sul Bullismo e il Doping e il presidente dell'Ordine degli Psicologi del Molise. Grazie.